un nuovo video ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo su let's be cops 3d quindi come dico sempre iniziamo tra 3 2 1 via voilà ecco qua carica caricamento carichiamo carichiamo ok si è caricato allora io scelgo il polizetto maschio una selezione rileva a questo è cosa per rilevare la velocità ok 30 30 di velocità questa quindi a posto da limite 30 questo 26 quella blu quella blu sicuro lei che noi 30 37 ora accosta accostiamo è andato troppo veloce non può andare troppo veloce allora database automobilista ha ignorato lo stop dicendo di un anno veloce l'ho notato ed è andato oltre 7 km limite di velocità quindi per me questa è una bella multa perché sto dicendo va bene che tipo lo stop non l'ha visto però dove sempre rispettare poi pure la velocità cioè ok la rossa la rossa la rossa ma cosa supera così e poi va veloce targa anteriore mancante beh già questo non va bene bello quella posteriore è sporca e non si legge bene allora se non si può neanche leggere la la targa giottando che non ti resto guarda no restare esagerato dai multa multa ecco qua l'esb cops ma perché ho detto l'esb cops che l'ho già detto all'inizio vabbè a caso ok ecco qua e poi così rinuncio ora scanner vediamo ma come 32 a me sembrava che stava andando finito ora se gli sbatto contro fuma nooo volevo sbattere contro mannaggia la volevo così la capottavo ah ora l'ho fermata dici allora grossa crepa sul parabrezza veicolo non sicuro per la guida dici di aver prenotato una riparazione il fatto che ha prenotato una riparazione va bene però comunque nooo perchè l'ho prometto per sbaglio sto dicendo che però comunque non va bene il che però comunque non va bene che ha superato il limite di velocità e quindi gli stavo per dare la multa ma non lasciarla andare ed ecco poliziotto sono ecco così così già 38 e ho allora limusine senza bollo veicolo sicurato per solo per soli quattro passeggeri per sport e 9 passeggeri su otto posti ok questa è una multa per forza ok arresto sbloccato non rinuncio comunque perché perché è proprio piuttosto che guardare gli annunci di proposito miglioramenti vediamo a per l'auto proprio vabbè per adesso mi compro le sirene da 500 che almeno per adesso sono questo poi le ruote non posso comprare niente poi qua niente qua neanche vabbè ho migliorato una cosa la sirene ok qua se vabbè un inseguimento cos'è ora fermo ecco qua allora piromane con condanna cerca di seminare poliziotti in frazioni stradali multiple durante la fuga e allora arresta qua veramente c'erano milioni di poliziotti che seguite allora qua urla guarda la macchina ok è uscito ora arrestiamola ecco qua oh mio dio cos'è qua ah il camion quello dell'arco ed è tipo un ricompensa no non la voglio perché costa anche una multa perché piuttosto che lasciarli dietro fare clienti gli annunci dal cos'è questo studio qua rinuncia anche perché tanto cioè io faccio rinuncia non guardo gli annunci ma le ricompense me le da comunque è bello c'è tipo arrestare ho fatto rinuncia perché non volevo gli annunci se non sbaglio però mi ha detto comunque la possibilità di arrestare nuovo abitato eh tocca per cominciare ok vabbè lo dici sempre perché l'ho detto non lo so che è così e questo è fatto poi il camion dei pompieri beh lui è di emergenza può andare veloce quanto vuole per me ecco lei che non va bene tubo di scappamento rotto beh come se non l'avevo notato dice che il fumo nero è normale eh sta andando a farlo riparare oh mio dio il fatto che sta andando a farlo riparare è buono ma il fatto che è andato a velocità altissima no multa ok qua 30 di velocità ok poi qua 37 di velocità ciao buongiorno qua allora usa il telefono alla guida già non è buono ha lanciato il telefono del finestrino abbandona il rifiuto non lo smette di scusarsi ma cosa mi interessa a me che non lo smette di scusarsi non giustifica il fatto che usa il telefono alla guida che l'ha lanciato e che è andato ad alta velocità questo quindi è multa allora qua città sbloccata via raccogli nuovo abito cos'è un pagliaccio tocca per cominciare qua stavamo fino a stendendo piano questo 30 ok no questa qua che sta andando veloce con la fianco ma come faccio a fermarla vabbè forse non stavo andando veloce ciao ciao ma cosa cosa ho fatto potevo fermarlo senza capottarmi e documenti pronti 8 km oltre il limite di velocità ciò significa che questa è multa ok qua occhio ai veicoli in fiamme può funziona non è in fiamme questo pure anche se il limite di velocità l'ha superato questo qua eh ma c'è pure quello in fiamme allora devo fermare quello in fiamme perché se mi dice occhio ai veicoli in fiamme devo controllare quelli e quindi ora gli batto più al contro sono andato contro a un veicolo in fiamme veicolo in fiamme non ho notato le fiamme come fai a non notarle e poi 5 km oltre il limite di velocità e allora sono indeciso perché in fiamme poteva uccidere qualcuno però se non si accorge delle fiamme lui va in giro con le fiamme così vabbè credo arrestarlo perché con il veicolo in fiamme metti che un tratto esplode la macchina arresta qua vediamo ok questo va a velocità normale questo 23 ok questo 39 trovato ora gli ora i chiodi direttamente i chiodi perché ho voglia di mettere i chiodi a bucare le gomme allora 9 km oltre il limite di velocità senza cintura bambini a bordo e se senza cintura multa però gli dovrei sequestrare il veicolo solo che non c'è il tasto quindi multa e voilà ok rinunciamo alla lente cogli e nuovo abito cos'è un pagliaccio no rinuncio ok dai quasi quasi ultima partita e poi finisco il video ok no grazie non ho voglia della ricompensa della ricompensa ah no questo sta andando d'altra velocità basta no lo volevo beccare come avevo fatto prima con una macchina che ho capottato vabbè ecco come ho fatto tipo con una macchina qua 42 stavolta metto direttamente che ho difficoltà da spettare senza capire ok tallone il veicolo senza cintura c'è qualcosa che non va perquisisci il veicolo vediamo perquisiamo ed ammazza ammazza l'orresto è legale è una mazza perché avevo una mazza è una mazza in macchina ok vabbè comunque direi che per oggi ci possiamo fermare qui e ciao vabbè quasi quasi finisco questo oh mio dio ma molotov oggetto illegale arrestiamo vabbè adesso ci fermiamo veramente e ciao 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 ciao